siamo arrivati a giovedì 24 gennaio buona giornata a tutti oggi abbiamo un mod veramente divertente che si chiama costa già il nome un programma per chi non l'avesse mai fatto sono sei round for time un minuto di calorie slow un minuto di barbies un minuto di double unders e un minuto di resto buona fortuna e fateci sapere i vostri risultati a domani